Grazie a tutti. Mi sono voluto focalizzare nel mio intervento su quello che è il mondo dei confidi minori perché ritengo che sia fondamentale comprendere un po' le logiche di quello che sta succedendo e soprattutto come intervenire e come questi confidi possono ancora dare importanza all'economia e al tessuto produttivo italiano. È chiaro che il mondo è cambiato, bisogna cercare di andare in direzioni dove la garanzia pesa sia a livello di ponderazione ma a livello anche di qualità degli interventi ed è a mio avviso importantissimo cercare di fare in modo che la consapevolezza al cambiamento e la velocità con cui questo accade bisogna tutti tenerne conto.